Milioni di cittadini senza vaccino, scuole che riaprono, varianti che aggrediscono chi ha fatto solo una dose, è prevedibile che se non stiamo attenti e non completiamo la campagna di immunizzazione dei nostri concittadini, a fine settembre, inizio ottobre, noi riabbiamo il problema dell'epidemia Covid. Ovviamente quando la situazione è tranquilla diventa sempre complicato rivolgere messaggi di prudenza e di ragionevolezza. Noi siamo intenzionati a muoverci sulla linea della ragionevolezza, abbiamo il dovere di spiegare in maniera semplice ai nostri concittadini perché i pericoli sono ancora dietro l'angolo. Dunque, apriamo le attività economiche, riprendiamo la vita normale, ma completiamo la campagna di vaccinazione. Perché se non la completiamo, a inizio ottobre riavremo l'epidemia di Covid in Italia, con le varianti Covid.